E io capisco molto bene che su questo pubblico Renzi, che il Berlusconi 2.0 è la continuazione di Berlusconi, più moderna, più attuale, eccetera, ma è uguale identico, non c'è differenza, è per questo che io sono già dall'inizio ho attaccato a Renzi, non sono mai stato a Renzi, non ho mai avuto un'ombra di dubbio, l'ho visto subito, è nato negli studi televisivi di Mediaset lui, come Salvini, sono frutti, sono des enfants della TV, sono figli di questa cultura. Grazie.